Un incontro urgente con il Governo nazionale e con il Governo regionale per affrontare la crisi del sistema degli enti locali siciliani e la gravissima emergenza socio-economica dell'isola. E' la richiesta contenuta in una nota formale che l'Anci Sicilia, l'Associazione dei Comuni Siciliani, a firma del Presidente Leoluca Orlando, ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e al Presidente dell'Anci Antonio De Caro. Alle criticità di natura finanziaria e di liquidità denunciate più volte dai comuni siciliani e scaturite in molti casi da una condizione di dissesto e predissesto anche a causa della insufficiente capacità amministrativa dei territori, della gestione integrata dei rifiuti e della ridotta capacità di riscossione dei tributi locali, si aggiunge adesso la gravissima emergenza sanitaria e socio-economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, che pone in prima linea i sindaci nella gestione di un'emergenza che non ha eguali nella storia. Questi in sintesi contenuti della nota. Una situazione aggravata dalle ulteriori difficoltà scaturite dalla pandemia, che oltre a creare una gravissima emergenza sanitaria, ha messo in ginocchio il tessuto produttivo rischiando di far collassare gli enti locali. La situazione è resa, se possibile, ancora più complessa dal fatto che per l'anno in corso fa notare l'Anci Sicilia la possibilità di approvare i bilanci e continuare a derogare i servizi essenziali, è legata alla definizione di un accordo tra lo Stato e la Regione siciliana e ad una modifica delle regole sull'utilizzo dei fondi comunitari. Già nel corso dell'Assemblea straordinaria degli enti locali siciliani dell'11 maggio scorso, alla quale hanno partecipato buona parte dei sindaci dell'isola, è emerso che per affrontare tale complessa situazione sia necessaria la sottoscrizione di un vero e proprio patto tra Stato, Regione ed enti locali. Ed è per questo, ha concluso Orlando, che sollecitiamo il Presidente Conte e il Presidente Musumeci ad incontrarci per individuare soluzioni condivise a tutela dei cittadini, famiglie e imprese.